Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Leggo in questi giorni che si sta riaprendo il controverso caso di Pantani, il campione del ciclismo italiano che fece purtroppo una brutta fine a partire dal tracollo che cominciò negli anni 90, in particolare nel 99. Dopo che Pantani vinse tutto il possibile, all'improvviso cominciò il piano inclinato quando venne espulso dal Tour de France, venne colpito perché i suoi valori non erano a norma e alla fine la carriera di Pantani precipitò e lui stesso si tolse la vita o secondo altri venne ucciso. Anche su questo vi è un dibattito aperto. E adesso il caso si riapre, in particolare da più parti leggo su quotidiani nazionali che si parla della Camorra, in particolare del grande giro di scommesse amministrato dalla Camorra. È chiaro come il sole che se Pantani avesse vinto la Camorra avrebbe fatto quasi bancarotta, invece con la sconfitta di Pantani o meglio con la sua espulsione non vi fu quell'evenienza, non ci fu quel fatto e quindi non ci fu la bancarotta della Camorra. Questa è una tesi che più volte abbiamo sentito, anche sulle Iene era uscito un documentato servizio in cui si difendeva questa tesi che a quanto pare adesso sembra essere riaperta e ripresa in considerazione. Vedremo gli sviluppi, intanto ci piace ricordare con stima e affetto Pantani che è stato un vero campione per il quale non lo nascondiamo, abbiamo nutrito ogni simpatia e ogni affetto e continuiamo a farlo.